porco dio va a fuoco fuori mastardo guarda adesso schiappa scendi che bruci bragan dietro bomba guarda 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 a coppia guarda 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 stiamo guarda si, 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 Paolo, corra! si, lo sto... Paolo, corra, subito! ragazzi qua voi, corra, voi qua adesso, voi qua, voi qua! io sto facendo oggi si, si, si! come l'ho detto? ah! grazie! 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 grazie!